Ben trovati, ben trovati ad un nuovo video tutorial firmato FabioAmbrosi.it Questo è il corso introduttivo ad Adobe After Effects In realtà siamo già un po' avanti con il corso, siamo quasi alla fine di questo modulo base in cui stiamo vedendo i concetti fondamentali per utilizzare After Effects È un corso rivolto a chi non ha mai usato questo software quindi se siete già bravi questo non è il corso che fa per voi Ripeterò le cose molte molte volte, abbiate pazienza Non tutti apprendono con la stessa rapidità È come avere una classe di mille persone Tra queste mille persone c'è chi capisce subito e c'è chi invece deve sentirsi ripetere le cose più volte Spiegate magari in maniera leggermente diversa per poter capire Quindi ecco, abbiate pazienza Se trovate a volte le lezioni un po' ripetitive Lo dico a quelle due persone su migliaia che hanno fatto notare che i concetti sono ripetuti troppe volte E vabbè, non tutti abbiamo lo stesso indice di apprendimento Questo è un corso rivolto a tutti quindi ovviamente i concetti vengono espressi in maniera tale che tutti possano capire Ok? Allora, nella scorsa lezione abbiamo parlato delle espressioni Pensavo di aver chiuso l'argomento e pensavo di non dovervi dire nient'altro sulle espressioni in After Effects Essendo un argomento complesso quindi essendo questo un corso base l'argomento poteva chiudersi con la lezione precedente Però, mi sono detto, sicuramente ci sarà qualcuno che vorrà sapere qualcosina in più sulle espressioni in After Effects Quindi ho pensato di fare questa seconda lezione dedicata sempre alle espressioni dove non andremo troppo nel dettaglio però vi mostrerò concretamente la potenza delle espressioni in After Effects Nello scorso video tutorial abbiamo visto la funzione Wiggle grazie a cui è possibile muovere o comunque variare il valore di un parametro in maniera quasi casuale o comunque in un indice prestabilito Quest'oggi andiamo avanti vi mostrerò un esempio molto più complesso della semplice funzione Wiggle spiegandovi anche cosa c'è dietro alle espressioni di After Effects Anzi, cominciamo proprio da qui Diciamo subito che dietro alle espressioni After Effects c'è JavaScript Nelle ultime release di Adobe After Effects il motore di scripting che permette di fare espressioni, di creare espressioni complesse altro non è che il buon vecchio JavaScript usato normalmente per i siti internet e in realtà JavaScript sta diventando sempre di più una potenza su tanti fronti e After Effects non fa eccezione quindi le espressioni che vedremo adesso non sono altro che semplice codice JavaScript che cosa faremo in questo esempio? Abbiamo due quadratini uno di colore arancione e uno di colore verde quando questi quadratini sono molto vicini tra di loro il quadratino sottostante checker diventerà verde quando questi due quadratini si allontaneranno troppo tra di loro il quadratino diventa rosso abbiamo in alto un contatore per contare i secondi ok? quindi riposiziono nella posizione di partenza premo la barra spaziatrice per mandare in play e guardate cosa accade niente di particolarmente entusiasmante con un wiggle ho animato il quadratino ma notate come ogni volta che questo quadratino va a sovrapporsi o si avvicina molto al quadratino centrale il quadratino sottostante che ho chiamato checker diventa verde per poi tornare subito rosso appena la distanza torna sopra un certo limite in alto a sinistra un semplice contatore di secondi ok? molto semplice senza grandi pretese non ha questo script e questo esempio delle funzionalità pratiche cioè non credo che voi in questo modo possiate creare grafica particolarmente interessante poi non si sa mai però per mostrarvi come con uno script adeguatamente programmato sia possibile fare quasi tutto quello che si vuole in After Effects e quanto uno script in After Effects possa fare la differenza in un'animazione renderla più gustosa renderla più imprevedibile più realistica sotto certi punti di vista bene andiamo a vedere come ho realizzato tutto questo allora io qui ho creato dei livelli ovviamente ok? il primo livello non lo considerate è un livello di debugger che ho utilizzato per fare un po' di debugging sulle espressioni ok? non entrerò troppo nel dettaglio ripeto se siete già programmatori javascript vi divertirete molto se non avete mai programmato in vita vostra ci sarà da studiare un pochettino diciamo che questo è più un esempio per mostrare quello che è possibile fare poi sta a voi ovviamente approfondire ho creato poi un altro testo chiamato Time che altro non è che l'orologio del tempo e poi ovviamente ho creato tre forme geometriche una l'ho chiamata proiettile ed è il nostro quadratino azzurrino che si muove impazzito nello schermo un altro è il bersaglio che è il quadratino sottostante di colore arancione e l'ultimo è il checker ovvero il quadratino che quando i due proiettile e bersaglio sono vicini diventa verde diversamente diventa rosso fine questa è la composizione di questa semplicissima animazione come ho creato tutto questo iniziamo a vedere l'espressione più semplice che è quella del timer allora l'espressione del timer premo due volte il tasto U sulla tastiera per visualizzare le espressioni e guardate bene questa è un'espressione semplicissima time fine scrivendo time abbiamo indicato il tempo ok? non è proprio così esatta come definizione anche qui ci sono tante tecniche per poter creare un countdown piuttosto che segnare il tempo che si muove in avanti ho trovato semplice per questo esempio utilizzare un semplicissimo e banalissimo time ok? andiamo sulle si ringrandisco andiamo sui livelli più complessi allora il proiettile non credo abbia espressioni no infatti il proiettile ah no no scusate il proiettile ha un'espressione non ha espressione il bersaglio ovviamente il bersaglio deve rimanere fermo non deve muoversi ok? quindi il bersaglio in sé è un quadratino giallo messo al centro della dell'animazione il proiettile deve muoversi invece e io come l'ho animato? come abbiamo visto nella scorsa lezione ho utilizzato una banalissima funzione wiggle 5 movimenti al secondo per un valore di 500 pixel molto semplice ok? e dove arrivano i problemi? i problemi arrivano con il checker come fare per dire ad after effect che questo elemento deve essere verde quando i due quadratini sono vicini e deve essere rosso quando sono lontani? bisogna lavorare appunto con le espressioni non vi spaventate eh perché può spaventare ma non vi spaventate questa è l'espressione che ho utilizzato ora qualcuno bravo che vedrà questo video dirà ah ma poteva essere fatto diversamente poteva essere fatto in maniera più semplice forse sì questa è la soluzione che ho trovato io se trovate altre soluzioni commentate e tutti quanti ne beneficeremo ovviamente che cosa ho fatto? molto banalmente ho creato delle variabili ok? una variabile chi mastica un minimo di programmazione sa altro non è che essere un contenitore che contiene qualcosa di variabile ok? in questo caso cubo 1x cubo 1y cubo 2x cubo 2y non sono altro che le variabili che contengono la posizione x del cubo 1 che è il proiettile la posizione y del cubo 1 sempre ovvero sempre del proiettile la posizione x del bersaglio e la posizione y del bersaglio se voi guardate la posizione di un livello noterete che ci sono sempre due valori no? x e y io questi due valori del bersaglio del proiettile li ho memorizzati in delle variabili come ho fatto? bene ho utilizzato una funzione o meglio un oggetto detto forse meglio di after effect che è this comp ovvero è un oggetto che si riferisce a questa composizione punto layer vado a cercare dentro ai layer in quale layer cerco? in questo caso cerco nel layer proiettile e di che cosa voglio di questo layer? la posizione ok ci sono due valori nella posizione x e y il primo valore è 0 il secondo è 1 quindi la x è 0 mentre la y è 1 questo per chi è bravo di programmazione è un array ok? che contiene due parametri e ho associato il risultato di questo di questo valore alla variabile cubo 1x appunto al proiettile ho fatto la stessa cosa con la posizione y e con l'altro oggetto ovvero il bersaglio poi ho stabilito due colori il rosso e il verde come ho fatto? come ho fatto prima rosso uguale e ho creato un array ovvero un contenitore con più valori ok? spiegato male ma quello è il verde in rgba ha i seguenti parametri 25500255 anzi forse questo potrebbe essere 1 in realtà non ricordo comunque 255 va bene mi funziona ma questo per intenderci sono i valori di rgb red green e blu e questo è l'alfa mi sembra che anche l'alfa sia espresso in 255 unità non sono sicurissimo ma così funziona quindi per una replica può andar bene ma prendete questo valore con il beneficio del dubbio quindi questo è il verde no questo è il rosso il verde simile al rosso ma ha il valore appunto del verde a 255 oh è importante il punto in virgola finale eh questo è fondamentale quindi ho definito queste variabili e poi ho dovuto calcolare la distanza come ho calcolato la distanza bene ho preso il valore x del cubo 1 che sarebbe del proiettile che è l'oggetto in movimento meno il valore x del cubo 2 che sarebbe il bersaglio ok ho fatto la stessa cosa con la posizione y quindi x e y ho due valori che mi danno la distanza sia sull'asse orizzontale sia sull'arte verticale ho utilizzato questa funzione javascript mat punto abs che non fa altro che restituirmi un valore numerico assoluto ok quindi senza il meno davanti detta male ma quello è ho fatto questa cosa sia per la distanza delle x sia per le y questa funzione è semplice la m maiuscola maiuscola ricordate quello che fate deve avere una distinzione tra le maiuscole e le minuscole javascript case sensitive quindi math punto abs è il nome della funzione aperta parentesi i due valori che si vogliono trattare chiusa parentesi ok fatta questa operazione ho creato un semplice if ovvero ho detto se la distanza x è minore di 75 unità e la distanza y è minore sempre di 75 unità apro e chiudo parentesi importante apro e chiudo graffa notate in questo caso il colore che io vado ad applicare deve essere verde ovvero questo faccio vedere bene questo verde è quello che abbiamo definito qui quindi il colore crea una nuova variabile uguale verde ok altrimenti else aperte e chiuse parentesi graffe il colore deve essere rosso ok fine in basso ho utilizzato questa questo puntatore questo elemento per dire ad after effect che al fin della fiera il valore di questo colore deve essere cosa colore quindi il colore che ho associato come verde o come rosso punto e virgola fine questa espressione così composta fa quello che avete visto fare ovvero fa cambiare il colore al mio quadratino checker mentre il tempo scorre ora non ha diciamo ripercussioni pratiche questo esempio ovviamente no non serve a nulla a livello grafico ma vi permette di capire come un'espressione possa essere utile quando si lavora ad un progetto grafico di grandi dimensioni immaginate di voler animare un ping pong per cui quando la pallina rimbalza e tocca non so una rete o tocca un punto dello schermo viene cambiato il colore o accade qualcosa ok questo è possibile farlo con le espressioni e javascript che è il motore dietro a tutto questo non sono concetti proprio semplici per chi non ha mai lavorato con un linguaggio di programmazione e per chi non ha mai lavorato in after effect in generale quindi ho voluto fare questa spiegazione extra per dar modo a tutti di capire perché perché è utile può essere utile utilizzare le espressioni chi non ci capisse nulla e vuole saltare può farlo si vive e si può lavorare con after effect tranquillamente anche senza le espressioni ma diciamo le espressioni danno quel tocco in più alle nostre creazioni multimediali so che me lo chiederete questo progetto lo renderò disponibile serenamente tra qualche giorno sul sito internet www.fabbiambrosi.it nella lezione associata a questo video in cui spiegherò e scriverò il codice per iscritto e renderò questo progetto chiaramente disponibile e scaricabile gratuitamente oggi siamo al 30 settembre 2020 per i primi di ottobre troverete questo progetto sul mio sito internet www.fabbiambrosi.it comunque metterò il link qui nei commenti se non vedete il link vuol dire che ancora non c'è quando vedrete il link questo progetto sarà disponibile ok per il momento grazie al prossimo video tutorial ciao ciao